Una busta di plastica bianca da cui fuori usciva un cavo elettrico appoggiata al portone del condominio dove risiede Vincenzo De Luca e il presidente della regione Campania in via Valerio Raspro nel rione Carmine a Salerno. Data la circostanza di potenziale rischio è stato applicato subito un immediato protocollo di sicurezza per cinturare l'aria con l'ausilio dei vigili ma sul posto dopo pochi minuti sono giunti anche i militari artificieri del comando provinciale Carabinieri di Salerno che al termine di valutazione hanno deciso di far brillare l'oggetto a centro strada. Il contenuto della busta è risultato essere una borsa termica dell'acqua calda motivo per il quale la normale circolazione è stata immediatamente ripristinata. L'episodio naturalmente non è passato inosservato nel popoloso quartiere tantissime persone hanno notato il movimento di forze dell'ordine e la notizia si è sparsa velocemente in città. La zona dove si trova l'abitazione del presidente della regione Campania viene costantemente tenuta d'occhio. Non meno di una settimana fa durante una protesta spontanea nata in piazza Mendola un gruppo di faci norosi si portarono proprio sotto l'abitazione del governatore ma tra gli episodi più clamorosi degli scorsi anni anche il ritrovamento di una testa di maiale decapitata.